Ragazzi e non ho potuto fare a meno di fermarmi il mandorleto super intensivo qui a Maccarese, vediamo di cosa si tratta e cosa stanno facendo, sono davvero curioso. Vediamo di cosa si tratta, allora è un nuovo mandorleto, c'è scritto che è stato piantato nel 2019, vediamo di cosa si tratta, allora è un nuovo mandorleto, c'è scritto che è stato piantato nel 2019 e vedo però piantine molto molto piccole, quindi sicuramente questa è una piantina che ha solamente un anno, vorrà dire che sul cartello c'è qualcosa che non va, ma non è questo il problema. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto delle file che sono molto ravvicinate tra l'una e l'altra, stiamo circa a 3 metri e 53 metri 80, ho misurato adesso a passi, in modo che nella fila io posso passare all'interno a fare tutte quante le lavorazioni dell'occorrenza, mentre la distanza tra una pianta e l'altra come vedete sono molto molto ravvicinate, misurando così a spanne sono distanti circa 120 centimetri. Quei macchinari insomma cerco di mettere qui in alto una fotografia che ho preso su web che si usano anche per raccogliere l'uva o magari raccogliere le olive. L'impianto di irrigazione che è stato previsto è giusto perché è ad ala gocciolante, in questo tubo qui scorrerà l'acqua e annaffierà le piante nell'apparato radicale, è sempre consigliato fare questo sistema prima di utilizzare l'impianto a pioggia, ossia con gli irrigatori, chiaramente se lo possiamo fare, perché l'acqua che va ad annaffiare la pianta è vero che annaffia la pianta però tocca anche l'apparato vegetativo e le patologie fungine sono sempre lì dietro l'angolo ad attaccarci la nostra piccola pianta. Termino così ragazzi questo veloce video, poi man mano che queste piante crescono ogni tanto verrò qua, farò un video e vediamo un po' quello che succede, come c'è da comportarsi in impianti intensivi come quello che stiamo vedendo qua, guardate sono penso quasi un centinaio di ettari, forse anche qualcosa di più. Vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.